Il sinistro verso D6, c'è la porta sul destro in direzione di Regis che davanti alla porta può concludere, cerca invece un assist e trova il vantaggio, tapin vincente davanti alla linea di Princi Galli e vantaggio del CJ 1-0 Cacchia, quindi Citro salta un avversario addirittura con la Veronica, poi scarica sulla sinistra verso Regis, palla proprio sul sinistro con il numero 9 che raddoppia dopo un assist, segna anche un gol, 2-0 del CJ Tranne quella di Cosimi in aria, palla proprio per il numero 16 che può provare la conclusione sotto al 7, è uno gol di Cosimi e accorcia le distanze il Ness, 2-1 Poi T6, arriva lui sulla sfera, tiro, grande parola del portiere, ma davanti alla porta, arriva il tapin vincente dopo la ribattuta di Citro, 3-1 e forse partita chiusa con la CJ avanti di 2 gol a 4 dalla fine Ora Starace verso Princi Galli, limite dell'area di rigore, vertice destro si porta la palla sul sinistro, conclude nel 4-1, che gol di Princi Galli Grazie